Cosa è il cazzo? Volevo dire al candidato decapitato o decollato che ovviamente qualcuno dice c'è un testa a testa e io ho detto non si può fare un testa a testa con uno senza testa quello che chiameremo il decollato decollato 4 stelle, anche 3, non ne può avere di più però anche lui, insieme a lui, ci sono altre liste Tu di che lista sei? Diventerà bellissimo Di che lista sei? Diventerà bellissimo Di che lista sei? Diventerà bellissimo Ma di che lista sei? Diventerà bellissimo Ma di che partito sei? Diventerà bellissimo Ma di chi sei? Diventerà bellissimo Ma pensavo di esserci tua Ricominciamo che non è male